Il mondo dell'intrattenimento italiano è attualmente in tumulto a causa delle recenti e sorprendenti rivelazioni che coinvolgono la famosa conduttrice Maria De Fili. Sembra che la celebre presentatrice televisiva, precedentemente legata al defunto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, abbia segretamente vissuto una relazione intensa con un'altra persona nel suo passato. Prima di svelarvi le ultime indiscrezioni, desideriamo gentilmente chiedervi di mettere un, mi piace, a questo video ed iscrivervi al nostro canale. Il vostro sostegno è di fondamentale importanza per noi. Grazie. Questo antico amore nascosto è emerso dopo la scomparsa di Costanzo, e Maria De Filippi ha cominciato a lasciar trapelare chiari indizi riguardo al suo passato sentimentale, facendo pensare che potrebbe presto condividerlo con il pubblico. Ma prima di proseguire con la notizia, ci piacerebbe conoscere la vostra opinione. Sareste felici se Maria De Filippi iniziasse una nuova relazione? Lasciateci i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Le speculazioni sulla sua relazione con Costanzo, una figura iconica della televisione italiana, sono state riaccese da questa rivelazione, scatenando una serie di discussioni e congetture sulla sua vita amorosa. Grazie alle sue straordinarie abilità nel condurre programmi di grande successo e al suo talento nell'intrattenimento, Maria De Filippi continua a mantenere il pubblico in attesa con l'anticipazione di questa storia d'amore segreta, che potrebbe svelare nuovi aspetti della sua vita. L'intera industria dell'intrattenimento è ora ansiosa di ulteriori dettagli su questa misteriosa vicenda. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.